Ciao, oggi siamo qua per coinvolgervi in una raccolta firme che riguarda un argomento molto importante che ci è stato sollecitato veramente da tantissimi genitori, la possibilità per i bambini di portare il pasto da casa. Noi come Regione Lombardia non abbiamo competenze, però come Movimento 5 Stelle della Regione Lombardia ci sentiamo di poter coordinare un'azione per raccogliere queste firme e chiedere all'assessore Aprea di attivarsi verso i comuni perché loro permettano ai bambini di portare il pasto da casa. Attualmente i bambini che fanno 40 ore di scuola sono costretti a consumare il pasto servito dalle mense, con un esborso per le famiglie che è molto alto, pensate che mi è arrivato il conto di un papà che ha due bambini alle elementari, per cui queste due figlie che vanno alla scuola statale gratuita, gli costano 1800 Euro l'anno, nessuna legge dice che non si può portare il pasto da casa, ma i pasti consumati nel locale gestiti dalle mense sono sotto la responsabilità di chi gestisce la mensa. Quindi in alcune scuole, per esempio a Vergiate, è già stato permesso ai bambini di consumare un pasto portato da casa in un altro locale. Questo permetterebbe sia alle famiglie che preferiscono far consumare il pasto fatto da loro in casa ai bambini, sia a famiglie che hanno problemi di carattere etico, quindi vegetariani e vegani, di far mangiare ai propri figli quello che loro ritengono più opportuno e più sano anche per i propri figli. Questo però non toglierebbe logicamente alle famiglie che preferiscono invece che i bambini consumino il pasto alla mensa, oppure a famiglie che hanno un isee molto basso, per cui magari quello è l'unico pasto decente che fa il proprio figlio, di continuare tranquillamente a mandare i loro figli alla mensa. Noi chiediamo comunque che venga messo sul piatto questo che è un problema molto ma molto sentito da tantissime famiglie lombarde. A questo proposito raccoglieremo delle firme fuori dalle scuole e ai nostri banchetti, vedrete questa locandina, quindi vi chiediamo di partecipare sia a questa raccolta firme che a quella che lanceremo su change.org, quindi una raccolta di firme online. Grazie.